buonasera vorrei assumere la dea o il dea non so come se sia maschile o femminile eccetera è l'ormone della giovinezza e chi è che non lo vorrebbe assumere l'ormone della giovinezza se poi facesse dei miracoli è insomma pronti tanto io non devo svolgere attività agonistica ormai da mo che non ne svolgo proprio non svolgo attività no vado in palestra tre volte a settimana e lasciamo stare con l'attività e no veramente tra l'altro questa dea è proibita dal 2021 in italia quindi proprio c'è pocbala proprio sfiorata sì perché insomma l'avrete saputo anche voi che le controanalisi con la prova al carbonio eccetera eccetera ha scoperto che non ha assunto del testosterone ma questa dea questo ormone della giovinezza perché agli stessi metaboliti si confondono praticamente ed è un contaminatore di integratori guardate bene che spesso non viene nemmeno recato come denominazione sulle etichette di questi integratori allora intanto viene a cadere la tesi dell'integratore acquistato negli stati uniti e assunto da quest'estate perché viene a cadere perché questa dea praticamente ha degli effetti più ristretti nel tempo e il fatto che sia stata trovata nelle urine del 20 agosto significa che era stato assunto da poco quindi a pocbala dovrà essere molto attento a ricordarsi quando ha preso questo integratore in modo tale che ci sia una logica vicinanza di termini di tempi tra l'assunzione e le analisi effettuate perché può cambiare lo scenario questo? beh perché si tratta intanto di una sostanza diversa si tratta di una sostanza che poteva non rientrare o meglio non essere indicata e quindi a maggior ragione non assunta intenzionalmente se gli avvocati riescono a dimostrare questa tesi esclusa una squalifica di 4 anni in partenza ma escluderei anche quella di 2 anni cioè praticamente si potrebbe arrivare a qualche mese cioè allora la squalifica ci sarà si potrebbe arrivare a qualche mese di squalifica questo potrebbe comportare un cambio di indirizzo da parte della Juventus nei suoi confronti ni nel senso che dovrà prima eventualmente valutare per quanto tempo sarà squalificato Pogba allora io la butto lì se Pogba prova tutte le cose a sua discolpa, tutte le tesi a propria discolpa e dovesse prendersi una squalifica di 5-6 mesi la Juve potrebbe anche pensarci nel senso che l'ha già aspettato 5-6 mesi l'anno scorso la butto lì, eh, sia chiaro e magari sono mesi che gli servono per tornare in condizione ottimale se fosse addirittura meno a maggior ragione la Juve potrebbe ripensarci ripensare all'idea di rescindere il contratto però sono tutte supposizioni che sto facendo io non sono in possesso di indiscrezioni tali per poter sostenere una tesi piuttosto che un'altra però lo scenario può cambiare lo scenario può cambiare innanzitutto per il ragazzo stesso che ne uscirebbe sicuramente con un'immagine più pulita o meno sporca o sporcata da quello che è successo e con la possibilità di tornare a giocare a calcio perché la prima situazione da considerare in questi casi è sempre la presenza di un ragazzo di 30 anni che può dover smettere di giocare che può andare incontro a pubblico ludibrio come si diceva un tempo essere sbeffeggiato e preso in giro per tutto il resto della sua carriera oppure può riabilitarsi in tutto o in parte diciamo più in parte che in tutto perché poi la cattiveria spesso è cieca è sorda e procede in un'unica direzione ma chi è cattivo dovrà un modo un giorno il modo di scontare la sua pena lo troverà qua o lassù ma la troverà la troverà perché nella giustizia c'è sempre che sia degli uomini o che sia divina ma c'è quindi è così ne sono fermamente convinto e di conseguenza quindi ecco perché può diventare interessante c'è da dire che quando si parla di Juve non ci si annoia mai qualcuno di voi dirà sì guardando le partite è vero nel primo tempo di ieri mi sono molto annoiato è vero è vero come la stragrande maggioranza ma le ho già dette le ragioni le ho già dette mi sembra di essere stato chiaro in questi ultimi tempi nel dire che in questo momento la Juve è tornata indietro rispetto alle belle iniziative che aveva avuto all'inizio di stagione e che potevano far pensare ad un cambiamento di rotta credo che sia doveroso tornare a ricalcare quei temi tattici doveroso al di là del fatto che adesso ci sono arrivate queste cifre su Massimiliano Allegri che faranno naturalmente incazzare molti di voi ma sono cifre sono numeri ragazzi per cui ha raggiunto con 13 derby vinti su 17 ha raggiunto con 13 derby vinti tra pattoni ha raggiunto la vittoria numero 289 in carriera su 478 partite disputate percentuale del 61% ok è a 11 vittorie dal club dei 300 che in questo momento non avrà solamente due allenatori Nereo Rocco il più avvicinabile con 302 e Giovanni Trappattoni con 352 mi sembra è lì insomma è un bel un po' più lontano questa è la freddezza o il calore dei numeri questi sono i numeri questi sono incontestabili su questo non si può argomentare su tutto il resto sì su tutto il resto che riguarda un gioco Juventus che continua a latitare nonostante qualche segnale all'inizio stagione sì si può argomentare anzi si può essere anche convinti e decisi perché vi riporto quella frase di Juric la Juve va in nove la dice lunga non c'è un esperto di calcio sono pochi gli esperti di calcio che dal punto di vista tattico prendono la difesa di Allegri e questa è un'altra cosa da constatare ribadisco nemmeno io mi diverto a guardare le partite da Juve specialmente ieri di primo tempo ok ma poi è innegabile che questa squadra abbia collezionato cinque vittorie su otto partite quindi oltre la metà che siano tre partite che non prende gol è un altro dato incontestabile e che sia lì e che sia lì agganciata alle prime quattro posizioni come da progetto poi ogni partita ci sarà modo di constatare se questo progetto potrà essere rispettato se si potrà chiedere di più a questo progetto o se questo progetto salterà ma questi sono i numeri e i numeri non fanno parte di una difesa o di un attacco nei confronti della persona sono i numeri fine io oggi ho guardato in gran parte Lazio-Atalanta partita divertentissima divertentissima 3 a 2 2 a 0 2 a 2 3 a 2 per la Lazio bellissima da guardare secondo voi chi erano più contenti? i tifosi da Lazio o i tifosi d'Atalanta? l'Atalanta ha giocato una bella parola a parte i primi 20 minuti che non ci ha capito niente poi è risaltata fuori è uscita dal troppore post coppa ok? tanto si è abbassata la luce qua però si erano molto più contenti i tifosi da Lazio che hanno visto una squadra iniziare molto bene calare e che si è poi ripresa nel finale con il gol di Messino ma è più contento chi vince non chi si è divertito credo credo ripeto non è una difesa è una domanda che vi sto facendo poi sono d'accordo con Gasperini quando dice piuttosto che fare uno 0 a 0 ben giocato preferisco prendere quattro gol ma segnarne cinque sì sì siamo tutti d'accordo su questo però vi faccio anche la domanda al contrario quanto al discorso degli errori che ho fatto oggi e poi chiudo se bisogna dire che la Juve ha vinto il derby grazie a due errori di Minkovi Savic allora diciamo che la Juve ha anche perso con il suo assuolo grazie a quattro errori su quattro gol quattro errori su quattro gol non c'è non c'è molto da argomentare quindi bisogna sempre cercare l'equilibrio nelle cose iscrivetevi al canale ci vediamo domani